Ragazzi, domani sarà il mio compleanno! Che bello passare il compleanno con due interrogazioni! Sono appena uscito da scuola, raga! E ora si festeggia! Tanti auguri a te... Tanti auguri a te... Tanti auguri Valerio, tanti auguri a te, auguri, 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 bravo. Ragazzi lasciate tanti like per questo fantastico compleanno. Guarda, si vede a malapena adesso. Quindi raga, perché ho questi riflessi in faccia? Ah vabbè perché? Dato che è il mio compleanno e sono più buono, perché lascia più commenti possibili? Io mi iscrivo al proprio canale e ovviamente ci sarà anche il cuoricino. Non dilunghiamoci oltre, alla prossima bella. Grazie.